E' terminata oggi la prima settimana degli esami in presenza della scuola media che si concluderanno entro e non oltre la fine del mese. La famigerata prova orale prende il via da un elaborato a cura dello studente che può essere un testo scritto, una presentazione multimediale, un filmato, una produzione artistica o tecnico pratica sviluppato sulla base di un argomento fornito dal consiglio di classe. L'esame di stato del primo ciclo consta solo della prova orale, quindi i ragazzi stanno svolgendo un colloquio che parte dalla presentazione del loro elaborato, poi segue un colloquio interdisciplinare fra le varie materie in modo da accertare i livelli di padronanza, degli obiettivi di competenza. Gli argomenti discussi riguardano lingue straniere, competenze logico-matematiche, lingue italiane ed educazione civica. Il risultato dell'esame è espresso in decimi. La costante, anche per questi esami di terza media, riguarda i rigidi protocolli anticontagio con gli studenti che potranno portare con sé solo un accompagnatore. Massimo può entrare un solo genitore con autodichiarazione. All'interno i candidati hanno l'obbligo di avere due metri di distanziamento tra candidati e commissari e ovviamente garantire tutte le misure di igienizzazione che ormai da due anni a questa parte sono diventati parte della nostra routine quotidiana. Stiamo uscendo dal tunnel. Sarà possibile arrivare veramente a un anno scolastico normale da settembre? Io non sono in grado di prevedere quello che sarà il proseguo a settembre. Diciamo che quest'anno ci ha dato comunque grandi soddisfazioni perché nonostante noi siamo in un'emergenza pandemica mondiale siamo riusciti a portare avanti tutto l'anno scolastico, attività didattiche in presenza. Grazie a tutti.